buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale oggi innanzitutto voglio mostrarvi delle novità makeup e skincare che ho ricevuto da labbo prima di natale e si tratta di prodotti che fanno parte di due nuove linee cosmetiche abbiamo innanzitutto 3x super formula abbiamo quindi dei trattamenti sia in fiale che in crema che si basano su tre strutture biochimiche per trattare i problemi più diffusi della pelle per un rendimento super dalla triplice efficacia sono disponibili 5 diverse formule antirughe rivitalizzante rassodante purificante schiarente io ho scelto di provare la versione ferming quindi rassodante per pelli con cedimenti e lassità cutanea e poi ho ricevuto tre prodotti della linea fillerina color che è una linea makeup quindi trattante formulata con i 12 acidi di aluronici a peso molecolare differenziato di fillerina quindi vedete fondotinta matt bb cream e rossetto volumizzante ad ogni modo non è una linea molto ampia perché a parte questi prodotti abbiamo soltanto un fondotinta setoso e un gloss rimpolpante cominciamo dal capitolo skin care e quindi con 3x super formula quindi un dispositivo dermocosmetico che si basa su tre strutture biochimiche per trattare quindi i problemi più diffusi della pelle con un rendimento quindi super la tecnologia che sta alla base di questi prodotti è sicuramente molto innovativa e complessa comunque per sintetizzare l'abo ha creato questo sistema che consente di sfruttare le proprietà funzionali delle molecole attive utilizzate ottenendo quindi dei prodotti più avanzati ma anche più efficaci rispetto ad altri prodotti in circolazione la struttura biochimica 1 svolge un'azione a livello del microbioma rendendo le cellule più ricettive e adatte ad elaborare al meglio i componenti funzionali delle strutture biochimiche 2 e 3 la struttura biochimica 2 invece lavora a livello del potenziale energetico delle pelle delle pelle delle cellule accelerandone il dinamismo e quindi aumentando l'efficacia degli attivi utilizzati mentre la struttura biochimica 3 è dedicata alla cura del singolo problema quindi abbiamo delle molecole funzionali specifiche per trattare la singola problematica la sinergia tra queste tre strutture biochimiche ovviamente va a rendere questi trattamenti più efficaci come vi anticipavo io ho scelto di provare questa versione quindi 3x super formula fiale e praticamente qua dentro ovviamente non c'è più niente perché io il prodotto l'ho utilizzato e praticamente vi dicevo si tratta di un trattamento quindi in infiale che utilizza la struttura biochimica 1 e 2 più la 3 e che è composta da 4 collagini di diversa natura e peso molecolare 3 di origine marina 1 di origine vegetale si tratta di un trattamento d'urto composto quindi da 7 fiale da 2 ml che in soli 7 giorni promette un effetto proprio rassodante e ricompattante quindi un trattamento ideale per pelli rilassate e concedimenti cutanei e in buona sostanza bisogna andare ad utilizzare queste fiale una ogni sera per 7 giorni consecutivi sul viso e perfettamente quindi deterso dopo un'accurata detenzione e poi continuare il trattamento con questa che quindi la crema di proseguimento da applicare mattina e sera io ho utilizzato le fiale e tra natale e capodanno e si tratta sicuramente di un prodotto ottimo la formula si assorbe rapidamente e non lascia un film appiccicoso sulla pelle è super idratante e ha un profumo floreale delicato ma veramente molto molto gradevole e dona un'immediata sensazione di comfort non fa miracoli non è sicuramente come andare dal chirurgo plastico però devo dire che i risultati si vedono perché dopo una settimana di trattamento la pelle risulta sicuramente più morbida elastica e compatta e si nota un discreto effetto tensore io non so se voi ve ne accorgete ma io sicuramente sì che praticamente appunto questo effetto tensore io lo noto in particolare proprio in questa zona va proprio a rimodellare i contorni del viso direi che proprio i primi effetti si vedono proprio sui contorni del viso che è una cosa insomma che a me interessava molto quindi come effetto però devo dire anche che l'utilizzo diciamo delle fiale è un po complicato perché perché comunque all'interno delle fiale non abbiamo un prodotto della formula liquida ma un'emulsione fluida che fa diciamo un pochino di fatica ad uscire dalle fiale insomma ecco ma detto questo come vi dicevo il prodotto è assolutamente ottimo e sicuramente però avrei preferito una confezione diversa quindi più comoda più pratica da utilizzare e devo dire che mi sto trovando molto meglio sicuramente ad applicare ad utilizzare quindi la crema quindi questa 2x super formula crema quindi filming sempre della tipologia rassodante contenuta quindi in questo dispenser da 30 ml questa crema ha una consistenza fantastica vellutata super setosa e ha una consistenza un pochino più densa rispetto all'emulsione quindi contenuta nelle fiale è lo stesso paradisiaco profumo floreale ed è super idratante io in realtà la applico solo la sera andrebbe applicata sia la sera che la mattina io la sto utilizzando soltanto di sera perché comunque ho una pelle mista e quindi cerco di evitare lucidità indesiderate con texture comunque così ricche così idratanti per il giorno ma per la sera veramente è una coccola meravigliosa come vi anticipavo io ho ricevuto anche dei prodotti quindi makeup della linea fillerina color quindi questi prodotti che hanno un packaging tutto bianco sicuramente molto sobrio ed elegante come vi anticipavo ho scelto della linea la bb cream il fondotinta matte è un rossetto volumizzante vorrei cominciare con la bb cream che si chiama fillerina color quindi 12 h a bb cream h a ovviamente sta per hyaluronic acid ed è un trattamento colorato effetto filler che contiene i 12 acidi di hyaluronic a peso molecolare differenziato di fillerina che è disponibile in sei colorazioni io ho scelto il colore b03 healthy nude che è un beige chiaro che si adatta perfettamente alla mia carnagione il flaconcino la confezione contiene 40 ml di prodotto e ha anche un utilissimo spf 20 questa bb cream ha una texture cremosa sicuramente va massaggiata un po' per farla assorbire bene io infatti preferisco nettamente lavorarla proprio con le dita come una crema per farla fondere perfettamente con la pelle ha una coprenza leggera sicuramente comunque uniforma l'incarnato minimizza rossoli e discromie un finish luminoso ed è estremamente confortevole e idratante la formula infatti è ricca di ingredienti emollienti ed umettanti l'effetto filler su rughe e segni di espressione è evidente proprio subito dopo l'applicazione quindi ha un effetto riempitivo un effetto rimpolpante e distensivo che rende sicuramente la pelle più bella quindi sicuramente distesa e luminosa e anche protetta io non potrei sicuramente sostituire questo prodotto con il fondotinta perché ho bisogno di una maggiore coprenza però come primer soprattutto insieme a quei fondotinta matte long lasting che tendono un po' a seccare la pelle mi piace veramente moltissimo questa BB cream la cosa che mi piace di più l'aspetto che amo di più di questo prodotto è proprio la sensazione di idratazione e di comfort prolungate e secondo me questo è un primer trattamento ideale per le pelli mature proprio per uso quotidiano per uso giornaliero che vi straconsiglio ho ricevuto poi ho scelto poi il fondotinta quindi matte in gamma c'è anche un fondotinta setoso si tratta sempre di un trattamento colorato ad effetto filler che svolge una funzione di fondotinta grazie all'alto contenuto di pigmenti che conferiscono al prodotto una coprenza media e un finish matte luminoso anche in questo caso la confezione qui contiene 30 ml di prodotto vi dicevo è disponibile in 6 colorazioni io ho scelto il colore M03 matte caramel il fondotinta è semplicemente meraviglioso l'unico problema è che il colore per me è scurissimo un po' lo vedete anche dal dosatore comunque ve lo posso mostrare senza problemi ecco qua ho fatto un casino però il colore è questo ed è sicuramente un colore che è un pochino oscuretto per me in questo momento posso utilizzarlo insomma poi magari no poi magari sicuramente lo utilizzerò con un po' di abbronzatura ho scelto comunque questo colore perché il colore 02 è rosato e il colore invece 01 sembra praticamente quasi bianco però speravo insomma in una nuance un pochino più scura ed è veramente un peccato che lo shade range di questo fondotinta sia così ridotto perché il prodotto è veramente strepitoso mi ha colpito tantissimo dalla prima applicazione si tratta infatti di un fondotinta che ha sicuramente una buona coprenza io direi medio alta e comunque può essere stratificato è facile da applicare è molto perfezionante molto idratante e ha un bellissimo finish semi opaco insomma molto naturale non fa effetto cake non evidenzia le zone secche ed è molto leggero sulla pelle sia come sensazione che come effetto visivo la cosa più piacevole è che dopo l'applicazione si nota sempre questo effetto proprio rimpolpante insomma distensivo la pelle appare più liscia levigata e compatta insomma un fondotinta che dona alla pelle un aspetto più sano e giovane non dura inalterato per tutto il giorno diciamo che sulla mia pelle mista dopo 5-6 ore ho bisogno di un ritocco sulla zona T però direi che si comporta benissimo anche se la formula a mio avviso è più adatta per pelli da secche diciamo a normali ma anche chi ha la pelle mista come la mia con i dovuti accorgimenti quindi magari con un primer opacizzante o sicuramente fissando questo fondotinta con una cipria può utilizzarlo tranquillamente magari non lo consiglierei a chi ha una pelle particolarmente oleosa l'altra caratteristica fantastica di questo fondotinta è che quando la sera lo rimuovete la pelle è più bella di quando la mattina lo avete applicato quindi si nota veramente che si tratta di un fondotinta trattamento e che svolge quindi un'azione filler continuativa sui tessuti cutanei oltretutto questi prodotti sono anche nickel cromo cobalto tested e formulati senza alcol profumi e parabeni l'ultimo prodotto che ho ricevuto vi dicevo è un rossetto si tratta di un rossetto volumizzante anche in questo caso è riduttivo parlare di rossetto perché è sempre un trattamento colorato ad effetto filler con i 12 acidi ialuronici di fillerina e contiene anche altri ingredienti volumizzanti come il palmitoil tripeptide 1 l'ho pronunciato così come scritto che stimola la sintesi di collagene il packaging è fatto in questo modo quindi è sempre molto elegante come vedete bianco e con tappo praticamente con chiusura calamitata disponibile in sei colorazioni questo rossetto io ho scelto il colore 03 che si chiama volumizing mauve è quello che indosso ed è un vero e proprio capolavoro è un rossetto questo che ha una texture ricca cremosa fondente scorrevole un colore subito pieno intenso e omogeneo è un bellissimo finish semi opaco vellutato ma non secca mai le labbra anzi la sensazione proprio di leggerezza insomma di comfort di benessere fanno praticamente dimenticare di averlo sulle labbra e anche la tenuta devo dire è ottima il colore è meraviglioso vado a sguocciarlo e ve lo voglio mostrare anche insieme alla matita che io utilizzo quindi con questo rossetto ecco qua il colore come vedete è praticamente un si può descrivere come un viola rosato diciamo un viola rosato medio scuro abbastanza neutro elegantissimo come vedete non appariscente non acceso un po attenuato una splendida tonalità rosata secondo me per la stagione fredda io lo abbino con la pastello mandragora di neve cosmetics che è questa che è una pastello molto amata molto apprezzata per la sua colorazione e come vedete questo rossetto si abbina veramente alla perfezione questo rossetto comunque per quanto mi riguarda è veramente top top per la colorazione ma anche per la formula e vi ricordo che in questa linea trovate anche dei gloss rimpolpanti e devo dire che dopo aver provato per bene insomma questi prodotti sicuramente i prodotti labo per quanto mi riguarda si riconfermano di altissima qualità sono prodotti super performanti hanno delle ottime texture delle formule proprio molto innovative e devo dire che anche i prezzi per quanto riguarda in particolare insomma la linea makeup non sono eccessivi ho visto online questo rossetto costa meno di 20 euro si trova insomma meno di 20 euro il fondotinta a circa 28 euro insomma quindi sicuramente non si tratta di costi proibitivi e io ovviamente ringrazio labo per la possibilità di provare qualcosa di queste due preziose linee che sicuramente vi consiglio di provare ma oggi voglio mostrarvi anche un altro paio di miei acquisti che fanno parte della collezione pillow talk di Charlotte Tilbury lanciata nel 2000 alla primavera nel 2020 che comprende una serie di prodotti ispirati all'iconica nuance rosa nude nata come matita labbra quindi come lip cheat e poi trasferita in un matte revolution lipstick oggi voglio parlarvi però di una matita occhi e di un blush che io ho ordinato sul sito ufficiale perché all'epoca non erano ancora disponibili sul sito sephora in realtà al momento la matita ancora non è disponibile mentre il blush l'ho visto proprio qualche giorno fa cominciamo però con la pillow talk eyeliner che è questa per quanto riguarda il packaging esterno la matita come tutti gli altri prodotti della linea pillow talk è contenuta in questa scatola esterna rosa tenue e con questo effetto spero si riesca a vedere con questo design ad effetto trapuntato che richiama un cuscino perché infatti pillow talk ricordiamolo significa letteralmente chiacchiere tra le lenzuola questo ovviamente è il packaging del blush per quanto riguarda invece il packaging primario la matita è semplicissima è una classica matita temperabile con fondo del colore della mina è una matita questa facile praticamente da sfumare a lunga tenuta in una tonalità berry brown studiata per rendere lo sguardo sexy sensuale e sognante è una matita che ha una texture morbida sicuramente cremosa scorrevole che scivola praticamente sulla palpebra un colore pieno ed omogeneo dalla prima passata ma che stratificandola potete intensificare quindi ripassandola si può scurire intensificare la tonalità si può anche facilmente sfumare dopo l'applicazione se per esempio volete ottenere un look più morbido quindi appunto è naturale oppure se volete utilizzarla come base per ombretto sinceramente però trattandosi di una matita che costa una bellezza di 25 euro secondo me insomma è un peccato utilizzarla come base per ombretto io non lo farei mai passiamo praticamente al colore che è quindi la cosa che sicuramente vi interessa di più anche se potete vederla insomma perché è la matita che ho utilizzato per il look di oggi considerate che io ho sfumato nella piega questo è un look più semplice più semplice di così non si può ho sfumato solo l'ombretto sul malva della palette new nude di Huda Beauty quindi nella piega e poi ho sfumato questa matita quindi la pillow talk sia come eyeliner praticamente l'ho sfumata poi con un pennellino angolato che è quindi sotto la rima ciliare inferiore e questo è il risultato e vi voglio mostrare però ovviamente meglio il colore si tratta come vedete di un marrone rossastro un marrone rossastro caldo con un tocco di prugna dal finish opaco medio scuro sicuramente non scurissimo ma che dà comunque una buona definizione allo sguardo ripassandola si vede ha una buona scrivenza anche nella rima interna e a me piace moltissimo sia come ho utilizzato oggi quindi come eyeliner come alternativa al classico nero soprattutto che il look d'aggiorno che quindi sfumata lungo la rima ciliare inferiore questo è un colore sicuramente ideale per chi ha gli occhi verdi perché li valorizza insomma all'ennesima potenza io infatti vado sempre alla ricerca di tonalità come queste che tra l'altro non sono semplici da reperire e questo direi che è un colore veramente straordinario insomma secondo me davvero unico e mi piace tutto di questa natività mi piace la texture cremosa che la rende semplice da utilizzare mi piace il colore che quindi è perfetto per me e mi piace anche la tenuta perché comunque è una formula a prova di sbavature e idrorepellente quindi dura rimane a suo posto per tutto il giorno quindi per quanto mi riguarda è assolutamente promossa poi ho acquistato come vi anticipavo se riesco a non affogarmi anche il blush questo blush che si chiama ce la posso fare no non ce la posso fare non mi sono dimenticata il nome allora vediamo un attimo sì chic to chic swish and glow blusher nella tonalità pillow talk intense che è quindi una nuance più intensa rispetto all'originale pillow talk che io non ho mai acquistato proprio perché in realtà si tratta di una nuance un po' troppo delicata per la mia carnagione il packaging è sempre ispirato all'art deco come per gli altri prodotti charlotte ilburi come vedete è sottile quindi marrone con accenti rose gold e contiene 8 grammi di prodotto il packaging è super raffinato il concept di questo blush è molto particolare perché come vedete la gialla contiene due colori complementari un colore esterno swish da usare come colore principale sulle guance sulle famose pomette e un colore centrale più chiaro e luminoso da usare quindi per creare punti luce sugli zigomi o sulle tempie e sicuramente l'idea è molto interessante insomma particolare anche se poi devo dire che non è molto facile andare a prelevare singolarmente le due nuance insomma almeno con i pennelli che uso io sinceramente è molto più pratico e più facile andare a mixare le due nuance la texture è setosa, sottile, altamente sfumabile ed è un blush che utilizza la light flex technology che cattura la luce e la riemette per una carnagione luminosa e per un effetto levigante quindi sulla pelle infatti il finish di questo blush non è completamente matt ma delicatamente luminoso contiene dei sottili riflessi che donano un delicato bagliore che rende la carnagione radiosa ma senza enfatizzare i pori dilatati questa è veramente una formula che ha un effetto levigante sui pori passiamo al colore il colore esterno è un prugna diciamo un prugna medio scuro caldo praticamente pressoché opaco mentre il colore interno è un rosa nude più chiaro e dal finish più luminoso andando a mixare le due nuance questo è il colore che si ottiene che è secondo me una vera poesia si tratta infatti di un rosa berry caldo delicatamente satinato con un sottotono rossastro che io adoro sulla mia carnagione questo è un colore che risulta molto naturale mai eccessivo è super sensuale ed estremamente versatile che sta bene con tutti i tipi di make up la pigmentazione non è altissima come tutti i blush e Charlotte Tilbury non ha bisogno di una mano attenta non va a creare delle macchie e il risultato è molto modulabile quindi si può facilmente ottenere l'intensità desiderata e dura inalterato per tutto il giorno questo costa 40 euro quindi sicuramente è un blush sicuramente costoso però per me è un signor blush insomma un blush che merita io sono contentissima di averlo acquistato e quindi di averlo nella mia collezione insomma un colore davvero bellissimo ve l'ho rimosto un secondo molto naturale sofisticato insomma davvero bellissimo per chi ama appunto questo tipo di nuance bene non è finita qua nel senso che io comunque vi mostrerò nei prossimi video anche altri acquisti di questa collezione che però prima voglio provare per bene io spero di esservi stata utile vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima e ci vediamo alla prossima